Vedete a Formia c'è la pizzeria Regina Sofia, no Limits, dalla tradizione barbonica pizza ad alta digeribilità. Qui stiamo in via Lavanga a Formia e da questo lato c'è Olimpio che vende il caffè Borboni. Come vedete è diventata come lo era una città barbonica anche Mola di Gaeto, ossia l'attuale Formia. E questa è la parte più bella di Formia con Castellone perché è la Formia antica che è come Gaeto e come tutte le città del sud.